Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Bene ragazzi siamo ad una nuovissima parte di mitopia E oggi ragazzi andremo avanti per il livello No ma prima facciamo questa cosa qui a me non ce lo togliamo dai piedi Nuova abilità, punta di sedere Pronti? Aiii Tu? Sconfitti questi due tessi vabbè Ho fatto così mille monete benissimo Bene ragazzi è ancora un'altra zona da completare quindi Vabbè vi faccio vedere soltanto è una via e poi basta perché C'è per ogni livello una via per farvi vedere tempo Dedalo sotterraneo bene qui dentro è dove c'è dov'essere quel mago C'è vabbè non scusa il signor della lampada che accettiamo il mago Wow si sento un eco incredibile qui Ciao mi fa sussultare a ogni piccolo rumore Oh davvero? Bene allora sarà meglio che non faccia questo Aaaaaah Non ti ho fatto paura? No fai schifo come diavolo va col paese Sì è i miei timpani Ok Il peggior diavolo del mondo Il mio alter ego Succederà bene Vediamo un po' Un torsiere Monete che bello Yeah Monete 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 Because money 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 Oh saldi 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 Yeah aiuto un altro mostro Bene Nuovi nemici Delle cobre Vabbè che sarebbero gli serpenti come ce l'avete non notato Bene ragazzi io vi consiglio di uccidere questo rosso perché Off camera ragazzi E ho notato che tutti i golmi in rosso hanno una particolarità Ovvero questo Quello di provocare i miei Vabbè adesso non sono niente ma il truia fa un po' incavolare Umi Poi vabbè ve lo faccio vedere ad una prossima notte quando un goblin rosso fa bordello Vabbè dai dai per il mio momento portiamo queste cobra Vabbè non abbiamo ancora ucciso Un secondo che si deve rilassare Vabbè andiamo veloce così Tanto non hanno niente di nuovo Ok vediamo Ok scopito il cobra Vittoria bene Tutti passano di livello Gabibbo di livello 6 Ho imparato san patta felina infelice danni a un nemico con una bella tigliata Aia Poi il super show di livello 6 Imprarò banana fritta Migliora il sapore e l'effetto di una banana ps automatico Mario 23 livello 6 Niente Gabibbo di livello 5 Niente vabbè A meno abbiamo imparato qualcosa E vabbè i cobra tanno quella povera il lì che non so che cosa cacchio dovrebbe essere ma dai tagli Viene 3 tipi di morti contratti di volendo 5 diavoletto ok Bene Diamo addio alla padella la ciambella e adesso Joe vuole un wwok Vabbè come cacchio si pronuncia Una padella giapponese o cinese vabbè come dovrebbe essere Abbiamo un sacco di tempo Vabbè anche Joe vuole che così look Vediamo un po' che cosa si veste Bene E diventa tanto un personaggio di un anime praticamente Wow sei un'altra persona E non so a chi pari paragonarti Ma vabbè adesso non vi è qualcuno Ok vabbè Le vie secondarie Le farò dopo che ho finito questi livelli Almeno così non perdiamo Almeno così non devo stare ogni volta Poi a finire un livello Poi per l'altro Perché se no qua ci occupo veramente 3 secoli Vabbè Qua il via da scegliere Vabbè sti cazzi Vediamo un po' chi c'è Bene Nuovi nemici Dei fossili Vabbè praticamente i possili sono Vabbè quei nemici Minuscoli che abbiamo sempre in contatto E in giro Nell'avventura Vabbè Poi vediamo la loro particolarità Qual è Poi si prepara Vabbè gommi rosso Per il momento non fa niente Quindi vabbè Niente da fare Ah ecco Nuova abilità Dissimulazione Vediamo un po' cosa fa Non mi sembra sicuro Ah grande Grazie ciò che Ti pari Detto di me Superciò che cavolo Per quanto io continui a Mami a tirarlo su Ho un casino che mi scende Sempre dentro la scarpa Perché Mi fai questo casino Perché Vabbè I cassini Non sono proprio felici Ralentiamo Sti cassi Vediamo un po' Chi altro c'è di nuovo Ma non penso che ci sono Altri Noi nemici Infatti Quindi a dopo Vabbè Stavolta I possili Hanno Un'altra forma Ok Infatti Scopri Anche Anche Questi nemici E tra poco Il mio Atrego Sta quasi Per passare Cial subito Di livello Sei Beh Nelmeno Un attimo Per favore Ancora Ancora Ash Ketchum Vediamo poche foto Hanno nella lettera Caro Gabibbo Ti invito Una delle petanze Preferite Di mio padre Con la Speranza Che ti sia Utile Per il viaggio Tu a Cosmo Sì Fantastico Come se io Non me la piglio Iassi Ogni giorno Una banana Vabbè Siamo perdere Grazie Finite Principessa Cosmo Vabbè Però Io Io Pensavo Che ci Dasse Un crocciato Di pollo Ma perché Una banana Ma cacca Abbiamo Che sacquate Di banane Vabbè 500 abitanti Siamo arrivati 100 di papiera Di vita E 35 Di pm Di magia Vabbè Ora arrivo a 550 Stano Stano Ho Non so Che avevo Invisso Aveva Un'ora Wow Davvero E come Gli ho dato Una bella Occhiata L'avevo Adatto Per Circa Nove Ore A dire Il vero L'ho Notato Di 5 5 ore Che Non è Dormito Ciò Vabbè Bene Adesso Il mio Il mio Aterego Vuole Come Vestito Un pipistrello Bene Vediamo Se Stavolta Il mio Mi Si Prende Il Vestito Dallo Dallo Kitti Praticamente Ello Kitti Vive Quaggiù E io Faccio Gagare Sai Bene Adesso Il signor Maglio T3 Indosserà Un Camice Elegante Con Buona Qualità E Non so Dire Che io Non mi Tedo Niente Di Eleganza Ma Dettagli Ecco Il colore Verde E Voilà Bene Vediamo Adesso Dove Conduce Questa Strada A Quanto Poi Dovremmo Essere Più O Meno Vicini Ma Vabbè Prima Di Tutto Vediamo Un po Questo Livello Qua Dove Conduce Tu Sei Troppo Prudente Mamma Gli Viti Ma Non Saprei Diciamo Che Mi Prodete Pu Per Seminare Ogni Eventualità Ad Esempio Tak Gabri Se Tu Fossi Un Mostro Che Ce Lo Sei Prendere In Considerazione Della Possibilità Di Datti Una Bella Ripassata Mi Fa Fossile Fossile Vabbè A parte Avere Molta vita Avrà Qualche Particolarità Caparbio Bene Un Attenzione Un'attacco Normale Un'altra Volta E Poi Vediamo Se Imparirà Di nuovo A meno che Non Lo Facciamo Fuori Bene Porcone Amoletto Capium Vabbè L'abbiamo Sconfitto Se Ci Capita Di Rivederlo Poi Vi Farò Vedere Se Usa Un Altro Tipo Di Attacco Bene Lui Posa Di Velo Sei Ha Imparato Sussurro Suan Dente Distrae Un Nemico Con Una Piccola Bucia Innocente Di Tipo Che Brutto E Fine Bene Ragazzi Il Metterego Vuole Delle Corna Tartan Forse Volevi Dire Tarsan Vabbè C'è un Padre Dai Battuta Stupida Ma Poi Tartan Non So Che Cosa Dovrebbe Eser In Particolare Ma Vabbè Adesso Ho Questo Vestito Yeah Sì Ragazzi Scusatemi Se Non Si Vede Molto Bene Ma Ho Cercato Di Mettere Una Luce Qua Per Che Si Vede Meglio Ma Niente Da Fare Praticamente Si Vede Comunque Sfoccato Cioè Se Io Non Mettere La Luce Sarebbe Addirittura Peggio Quindi Figuriamoci Vediamo Che Succede Un Bucco Oh Oh No Proprio C'ho Doveva Accadere Sopra C'ho Oh No Una Trappola Tutto Bene No Sono Morto Sì Sì Me La Caverò Niente Paura Ok Abbandoniamo C'ho In quel Bucco Sopra Ciò Abbandonato Il Gruppo Ma Soltato Ragazzi Per questo Livello Ci Vediamo Alla Locanda E Non So Ok E Dizzimi Come Fa Lui Ad Uscire Ma Dettagli Alla Fine Del Livello E Un Vostro Membro Che Cade In Una Tappola Pu Ritornare Però Cacchio Proprio Il Cuoco Dove Cadere E Difficile Abre Qualcuno Che Fa Le Che Ha Tenuto Una Cema Misteriosa Beh Chissà Cosa Ci Servirà Mai Questa Cema Misteriosa Dice Certo Se Servirà Qualcosa In Tre Ma Guardate Che C'è Tornato Tornato Voglio Voglio Tornare Un Regalo E Praticamente La Mocca Di Tornato C'è Pregio Mistero Dalla Feder Vabbè Vediamo Un po' Che Regalo Eh Mucca Di Peluche Beh Prima Ciò Gli L'ha Dato Un Orso Quindi È Logico Che Mario Gli Dà Una Mucca Beh Ma Scusa Prima Tu Gli Dato L'orso E È Lui Che Dà Una Mucca Ma Che È Un Cacchio Di Poveri Hai Dai Non È Molto Contento E Infatti Nemmeno Dalla Faccia Di Mario Se Deve Fato Un Ricolo Decente Ma Vabbè Bene Il Mio Atterraigo Non So Che Cosa Gli Hai Presso Ma Vuole Una Lancia Gelato Come Arma Sì Guardate Proprio Un Gelato Ma Guarda Un po Anche Se Amrè Dalla Forma Sopra Merda Ma Dettagli C'è Merda Rosa Ok Mi Anche Che Qua I Miss Sono Tutti Ricintrulliti Perché Come C'è Possibile Che Umi Dovrebbe Usare Un Guattro Da Forma Come Arma Ma Dai L'intelligenza Sei un Gatto Non Un Cuoco Mi I Capirà La Miseria Ora Sono Un Problem Su Male Dopo L'arma Cinese Non poteva Mancare Una Divisa Cinese Ora Si Che Ciò Può Considerarsi Un Vero Cinese Ah No Però Sono Caramella Quindi Non Un Cinese Vabbè Vabbè Andiamo Per Se Non La Smetti Di Almentare Qualcuno Ci Sentirà Ehi Mario Ma I tu Pelusci A Po Su Vita O Cosa Vabbè Lasciamo Perdere Cos'è Stato Hai Visto Cosa Ti Dicevo Ma Io Non Ho Fatto Nulla Una Mucca In Un Deserto Non È Normale Quindi È Per Forza I Pelusci Di Mario Madonna Sanna Adesso Si Vuole Vendicare I Aiuto Sì Oh Che Cacchio Non Non Siamo Scenare Cosa Ci Aspetta Più Avanti Una Mucca Praticamente Adesso Dovremmo Sfidare I Pelusci Di Mario Motu Abilmente No Non Penso Che Sia I Pelusci Di Mario Per La Misera Ragazzi Quello Lì È Un Come Cacchio Si Chiama Minotauro No Cazzo Sto Dicendo Ah no Ciuto Era Minotauro Allora Non Ho Dato Una Minchiata Vabbè Ragazzi Affrontiamo Questo Mini Boss Per Così Per Così Dire Io Usa La Pigliartiglia Meno Metto Il Mio Attacco Vabbè Già Da Qua Si Vede Che È Fatta Fatta Felina Li Faccio Molto Danno Pum 57 Perché Prima Ho Tutto Mi Attacco Attacca Di nuovo Tutti Ok Stiamo Tutti Per Morire Praticamente Forcone Molesto C'è l'altro Molesto Ma dettagli Vabbè Volendo Posso Anche Usare Sampatta Felina Normalmente Se sa che Devo Praticamente L'attacco Ok Prudente Vai Un secondo Ancora Che palle Ma attacca Eh Accidenti Vabbè Giò Fai Cipo Per sé Di nuovo Ah No Sono sul mio Culo Che cacchio Aia È pronto E adesso Colpo Finale Sì L'ha proprio Unciso Bene Scoperto Minotarco Ha posto Così Tutti Di nuovo Lo Sette Tra Mi Altra Ego Ah Ecco Fatto Una Nuova Abilità Formula Tossica Una Mistura Letale Che Inflice Molti Danni A tutti I Nemici Magia Non è Una Magia È Chimica Vabbè Facciamo Perdere Al Mi Altra Rego Almeno Così Di Di nuovo Sette Che Lui E Niente Abbiamo Tenuto Cibo Fresco Finalmente Un Forciere Vediamo Po Che c'è Qui Dentro Monete Vabbè Vabbè Quattro Era Sottato Una Via Dove C'era Sto Bossa E Basta Cinquattro Forcieri Bene Con calma E costanza Di nuovo C'ho Qui In Tutte Scene Vabbè Bene Ok Fatto Level 3 Adesso Adesso Tocca Il Vestito Pu Anche a me E che cacchio Una banana Mi piglio Ma riesco a prendermi Il vestito Decente Vabbè Vediamo se ce la fa Questa volta A prendere Il vestito Cinese Ecco Ce l'ha fatta Finalmente Colore verde Yeah Cinese Non lo è Vabbè Sticassi Bene Un'ampolla Spirale Vabbè Praticamente Dalle amiche Dei Poi Sono Le Ampolle Vabbè Yeah Ok Adesso Andiamo Per di Qua Dove Dovremmo Arrivare Altissimo Dunque Una Porta Un Vicolo Cecco Cosa Sarà Quel foro Del muro Chissà Cosa Mi domando Se quella Gemma Corrisponde Perfettamente Eh Sì Ragazzi Per poter Andare avanti Per questa Porta Dovete Per poter Raccogliere Quella Gemma Se Non Dovevate Andare A trovarla Per passare Vabbè Adesso Possiamo Raggiungere Da Buono Ricci Che Ne fate Po ridere Come uno Scemo Beh Chi hai da guardare Tu Ah Dalla mia moce Che fa schifo Restituisci Subito Il tesoro Che paura Fai Piccoletto Sappi Che questo Deserto È Il mio Parco Giochi Tutto Ciò Che appartiene Agli Abitanti Della Città Appartiene A me Sparisce Adesso Se non vuoi Sentire Ragioni La La lampada Dove l'hai presa Tanto Non hai idea Di come funzioni Vuoi citare l'incantissimo Recita Vabbè Bisogna scrivere sotto Il nome Vabbè Già Lo sapete Che è Waluigi Waluigi Come fai A conoscere L'incantissimo Waluigi Succhiare Aspetta 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 Fermate un attimo Waluigi Rettituirò il tesoro Fino all'ultimo Cioiello Il mio amico Se lo gode Ti prego Non mi sto cambiando L'ampada Waluigi 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 Vabbè Siamo padre Quindi Mi dispiace Ristituirò il tesoro Agli abitanti della città Ah 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 E guarda Se io non avessi La lampada Non avrò fatto un cacchio Quindi Mennomale Che l'hanno presa Waluigi È volato Verso la città Con il tesoro Seguilo Bene Andiamo da Waluigi Bene Città di a ridosso Sanno desolata Per ciò che ho fatto Mi restituisco il tesoro Come brilla Che faccia brutta Eh eh Agi denti È quello che penso io Abbiamo tanti di a ridosso Un bel regalino Per voi Vi farò assaporare Alla baronettere Della disperazione Alla città Eh ragazzo mio Ascolterati Quanto di pover vecchietto Quando credi Di aver già visto Il peggio Arriva Il ducco del male A rovinare Le nostre ville Qualcato di terribile In un attimo Ha rubato Tutti i volti Della gente Così A contrario Il genio burlone È un dilettante Nella mia lunga vita Mai Mai avevo visto Un tale Concentrato Di malvacità Mi chiedo A cosa Amiri Quel terribile Ducco del male Ha rubato Persino Il volto Della povera Marta Non ha Mai Il minimo Rispetto Per nessuno Che traccede Il suo sorriso Era puro Incanto Il ducco del male Ha appresso Il volo Verso La piramide Al nord Ti prego Pensaci tu A dargli Una bella Lezione Sì ragazzi Il ducco del male È arrivato E ha perso I volti Di moto Accente Direi Vabbè Tranne lui Praticamente Si è salvato Il culo Povero Dat water E beh Cacchio Anche Waluigi Gli ha perso La faccia Poveretto Vabbè Ragazzi Ci vediamo Con la prossima Parte Dove Andiamo Di nuovo A salvare Altri Abitanti Recuperato Il botto E Compresso Anche Waluigi Forse E si presume Quindi ragazzi Ci vediamo Con la prossima Ciao Buongiorno Buongiorno Buongiorno